Posso capire che ci siano disagi, però bisogna portare pazienza, il giro passa una volta e bisogna soffrire per ottenere questo ottimo risultato. C'è una corsa parallela a quella per la maglia rosa ed è la corsa all'accoglienza, la corsa a fare bella figura, a mostrare il lato migliore di un territorio che non è abituato a stare sotto i riflettori. Un'occasione importante, siamo felicissimi, forse un po' stanchi quasi, perché veramente questa tappa ci sta assorbendo molte energie. Diciamo pure che metà comune è impegnato a gestire la sicurezza e l'altra metà è occupata a gestire l'accoglienza. Con il Gran Premio della Montagna nella ventesima tappa di sabato prossimo, Fozza conta dimostrare il lato migliore a chi seguirà una delle tappe decisive del Giro d'Italia. Anche tutti i privati sono già pronti ad ospitare amici e club, sta arrivando su veramente di tutto. Siamo pronti, siamo pronti dai. L'obiettivo è quello di lasciare sulla bocca di tutti il gusto dolce di una montagna da maglia rosa capace di accogliere e regalare grandi emozioni. Dare un'immagine bellissima a tutto il pubblico nazionale e internazionale. Non sarà semplice, è un lavoro che abbiamo cominciato già da molto tempo, però siamo praticamente alla fine, stiamo contando le ore. La sfida è quella di raggiungere non solo chi potrà respirare l'aria, ma anche chi sarà comodo in poltrona. Vorremmo dare e regalare un'immagine nostra piacevole di natura, di bellezza del paesaggio e dell'aria che si respira dalle nostre parti. Un'aria che sabato prossimo sarà quella delle sfide epiche, quella di un territorio che prova a raccontare di sé e quella sui pedali.